Sono Adrian di Fari Music, che lo sai, è il magazine che ha fondato Alberto e Mara Maionchi, sai? Sì, 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 lo so, ho letto qualcosa. Esatto, e insomma, praticamente loro sono stati dei fruitori, dei fondatori e degli autori anche di Sanremo per un sacco di anni, insomma, voglio dire, hanno scoperto nella loro vita forse i più grandi, effettivamente. Comunque, oggi siamo qua per parlare con te, con Daemia, e quindi per comunque riuscire a capire e comprendere meglio quello che si tratta all'interno dei nove brani di Blue Edo, quindi che è il tuo nuovo lavoro, ok? Questo nuovo lavoro composto da nove brani ha colpito molto questo titolo, questo titolo che comunque contrasta il buio e la luce, voglio dire, questa copertina comunque con te, una sorta di cavaliere che comunque deve raccontare questo percorso. Adesso raccontacelo tu, perché comunque voglio capire da te questa crescita psicologica, Jung, Hillman. Racconta come nasce Blue Edo. Blue Edo nasce prima di tutto da canzoni scritte da me nel periodo che va dal 2021 al gennaio 2021 al settembre barra ottobre 2022, quindi pochi mesi prima dell'uscita dell'album. Inizialmente non doveva essere un album, cioè si ragionava per singoli, è uscito il primo, non è vabbè, che è finito, tra l'altro anche in spariate playlist, tra cui quell'editoriale di Spotify che è Anime R&B, è uscito il secondo singolo e mentre lavoravamo in studio c'era parecchio materiale e abbiamo deciso poi di pubblicare in maniera naturale questo album di nuove brani. E come dicevi tu è stato un percorso di crescita artistica, ovviamente, e di crescita anche personale, perché è un viaggio fare un disco, è un viaggio scrivere i brani, è un viaggio comporli, è un viaggio produrli. Insieme allo Stato, insieme a Stefano, che è il produttore e poi il producer, abbiamo lavorato in studio insieme e il titolo è venuto fuori proprio da una mia passione, perché amo leggere, ho letto alcune cose, come citavi tu prima, di Jung, che connetteva la crescita psicologica dell'individuo ai processi alchemici ed è affascinante come cosa. E il titolo si ispira proprio a quello, cioè si rifà al blu alchemico, secondo il titolo alchemico, che è una sottofase appunto del lavoro alchemico che si pone tra il caos e la luce, quindi un minimo di ordine. La blu edo sta nel mezzo ed è anche, ovviamente, oltre a questo, anche una sensazione, un'emozione, oltre che appunto una fase alchemica. È proprio un modo di stare in quel momento. Per questo ho scelto questo titolo, lo ritenevo significativo e poi ovviamente il blu è un colore che mi piace molto. C'è anche nel titolo, no, blu edo, questa sensazione di ricerca, no? Se ci connettiamo al famoso gioco da tavolo. C'è anche questa sensazione di ricerca, no? E questo fa parte appunto del disco, perché c'è stata una ricerca anche dei suoni, abbiamo sperimentato un po' in alcuni brani più che in altri. E quindi tutto questo si connette insieme e si connette anche alla copertina, all'armatura, alla retro copertina, cioè alla track list, la forma di percorso, e di aver finito con al centro una nuova visione sostanzialmente delle cose, no? Una nuova consapevolezza. Mi piaceva connettere tutto questo e dare, passare questo concetto. No, no, è molto bella. Un lavoro di consapevolezza, io lo sai che mi piacciono sempre. Quanto si tratta di luce, guarigione, cambiamento, riflessione, tutto quello che riguarda, diciamo, comunque un percorso dove comunque artisticamente ti fa crescere. E questo per me è importante, perché comunque poi si vede poi nell'artista man mano che poi fa delle performance, o comunque si fa comunque poi iniziare a vedere in pubblico, creare magari il suo contesto live per farsi conoscere. E questa cosa qua ovviamente poi si vede anche nelle performance. Io dalle tue parti di Napoli, dopo che ho sentito il tuo disco, io conosco la Serena Brancale, che è una grande artista, lo sai, che voglio dire, lei praticamente mangia, probabilmente come te, pane Pino Daniele da anni. Assolutamente. E quindi lei è veramente una ragazza che io conobbi anni fa, appunto a Sanremo, quando andò a Sanremo Giovani, era già, come dire, una perla bianca, no? E oggi si sta rifacendo delle serate meravigliose, veramente con dei grandi musicisti. E devo dirti la verità, proprio come complimento mio personale, ho sentito negli arrangiamenti di Stefano dei suoni molto, molto lounge, cioè molto, molto soul, molto funk, molto simili anche un po' al mondo musicale appunto napoletano di Serena. Quindi tu potresti davvero entrare a far parte, come dire, cioè ci sei già dentro, ma secondo me questo mondo musicale che stai seguendo è molto giusto, è molto bello perché ti contraddistingue, perché hai una voce davvero molto chill out, molto lounge, cioè quindi rientri proprio in questo contesto, proprio da concerto minimal, ok? E questa cosa fa riflettere molto le persone, cioè le fa comunque accomodare in un contesto di club privato, personale, che va a sentire da Emya perché vuole questo. Sì, in effetti è quello che ascolto poi alla fine, no? Siamo, gli artisti sono un po' il, alla fine, un prodotto originale, filtrato attraverso la lente poi personale di ognuno, statisticamente parlando, di quello che ascoltano. Certo. E quindi tu prima citavi Pino Daniele, Pino Daniele ovviamente è un punto di riferimento nel nostro, cioè soprattutto per noi musicisti campani. E nel sangue, certo. Ci manca molto. E proprio fa parte del codice proprio nostro. Eh sì, di DNA. Quindi c'è tutto questo secondo me a livello di sound all'interno del disco e come dicevi tu mi piace molto quell'atmosfera di cui parlavi, del club, appunto avere la possibilità di entrare in contatto attraverso i live con le persone e comunicare delle cose in maniera diretta e senza troppo rumore di fondo, senza troppo rumore attorno. No, no, ma infatti questa cosa è mantienila, mantienila assolutamente perché nel disco si sente molto e diciamo che, voglio dire, fa da tappeto a quelli che poi magari sono i brani che giustamente anche in un contesto live e anche di ascolto, voglio dire, sono quelli un pochettino, come tu li definisci, euforici, come per esempio Montmartre dalla giusta distanza.